Ciao ragazzi! Allora vi faccio questo video oggi per dirvi che vi ho preparato, beh non li ho ancora finiti, vi sto preparando 50 video per iniziare bene la stagione. Ormai ho finito le mie vacanze prolungate e si riparte con la mia cinofilia. Questi 50 video li ho divisi in 25 video come non farsi invadere dei cani. 25 video sui cani da guardia perché vorrei iniziare quest'anno a fare un lavoro più mirato. Vorrei tanto che le mie pagine dove io pubblico i miei video sui social non fossero più seguite da questa marea di persone ma mi seguissero quelle persone che realmente credono o hanno la necessità di un cane da guardia. Il cane da guardia non è una passione come dicono molti. Il cane può essere una passione. Il cane da guardia è innanzitutto una necessità. Se voi non vivete in condizioni ambientali che vi consentono di adottare un cane da guardia o se non avete minimamente il timore che vi possano in qualche modo entrare in casa perché dovreste adottare un cane da guardia. Nello stesso tempo se non siete interessati all'argomento che cosa venite sempre con i commenti a rompere le pade sulla mia pagina che vi devo poi bloccare. Le mie pagine come l'avrete capite sia quelle che trattano la cinofilia naturale sia quelle che trattano prettamente il cane da guardia non sono pagine per zitelloni in carriera o per ex menopausa che con un cagnetto che tutto ciò che gli è rimasto ce l'hanno con tutto il mondo o perlomeno con tutti quelli che non la pensano come loro. Le mie pagine sono per chi si fa tante domande su come si possa ottenere il reale benessere del cane o per quelli che hanno la necessità di dotarsi di cani e quindi vivono in una casa con giardino e vogliano vivere più al sicuro. Tutto il resto, tutto il resto della cinofilia in qualche modo ve la siete costruita voi. Siete arrivati sulla mia pagina, non vi è interessato minimamente che probabilmente le mie pagine non erano le vostre pagine e avete iniziato a discutere gli argomenti che spesso non conoscete minimamente. Quindi siccome vorrei partire bene quest'anno vorrei dedicare 25 video proprio ai cani da guardia, far capire realmente se vi serve o meno un cane da guardia, quando lo dovete adottare, ma se vi serve e se lo dovete adottare e cercare di fare un po' più attenzione perché quest'estate io non mi sono occupato altro se non quello di andare in giro a rimediare a problemi che erano nati nelle famiglie. Tante famiglie che tra l'altro avevano preso un cane, tanto così, perché l'hanno visto su YouTube, gliel'aveva proposto un amico ma in realtà non erano i cani che poi interessavano queste persone. E 25 video vorrei dedicarli all'importanza che secondo me ha lo studiare cinofilia. Studiare cinofilia anche qui si studia per passione. Io quando sono venuto ad abitare in questa casa, prima di accorgermi che avevo bisogno dei miei cani da guardia, avevo già la passione dei cani, ma avendo solo la passione dei cani non mi ero mai sognato di dover studiare. Ho iniziato a studiare quando mi sono reso conto che avendo paura di gestire certi cani, dovevo conoscere un po' più a fondo determinati discorsi, perché se no non riuscivo a zeccarne una. Quindi in sintesi vorrei che seguissero le mie pagine e invece si astenessero tutti gli altri quelli che credono che vivendo in una casa singola con giardino i cani possano essere uno strumento efficace contro questa paura che abbiamo tutti noi, che viviamo appunto in un tipo di abitazione così, isolata, singola, spesso presa di mira dalle persone che vogliono entrare, vogliono prendersi tutto, eccetera, e tutti quelli che credono anche loro che studiare possa servire a qualcosa. Quindi non studiare solo perché mi piacciono i cani, studiare se io credo che realmente, poi da questo studio che io faccio, da questo impegno che io metto, ne possa ricavare dei benefici. E quindi vi ho fatto una cinquantina di video e questo è un video di presentazione per dirvi guardate se mi seguirete in questi prossimi due mesi, quasi tutti i giorni pubblicherò un video specialmente per quelli che mi seguono e anche per quelli che studiano ormai da tanti anni, i miei clienti che si può dire ho accumulato in questi 25 anni che sono gli unici destinatari di tutto ciò che io faccio sui social. Gli altri per me sono solo un fastidio, a meno che non siano persone in attesa di voler acquistare un mio cane o di volersi mettere a studiare. Vi devo in qualche modo sopportare perché Facebook non è mio ma meno commentate sulle mie pagine, specialmente quando non siete d'accordo con la mia cinofilia, meglio è perché mi evitate un lavoro in più che come cinofilo di lavoro ne ho già tanto. Bene, vi ringrazio tanto anche oggi di avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata. A presto!